eccoci in diretta eccoci qua bentornati vediamo se riesco a fare tutte le cose come sempre compreso instagram ci proviamo bentornati settima puntata di pensieri in libertà oggi in realtà ho un po di cose un po di cose da dirvi ne avevo io originalmente una che poi sono entrate due poi ahimè ieri sono diventate tre allora la prima cosa che ovviamente da dirvi nel caso qualcuno di voi non lo sappia ma potrebbe un giorno roberto ma potrebbe anche legittimamente non saperlo e questa è la ragione per cui sono abbastanza incavolato è il fatto che ieri è venuto a mancare maurizio pollini che se non è stato il più grande pianista degli ultimi 50 anni italiano quanto meno siamo lì ok poi voglia sapete che ancora stamattina sotto il video di carian c'è che diceva è però non è però la era meglio quindi è difficile ovviamente non parliamo di fiaschi di vino parliamo di una cosa comunque abbastanza soggettiva e quindi è difficile dire che è stato il più grande direttore difficile dire che è stato il più grande pianista però possiamo dire sicuramente che la carriera buongiorno mauri che la carriera che ha avuto e elena la carriera che ha avuto pollini considerate che ha vinto lo shopen a varsavia 18 anni che insomma possiamo dire che il concorso pianistico più importante del mondo e praticamente da lì non non si è fermato più praticamente non si è fermato più insomma ha avuto una carriera ha avuto una carriera veramente strepitosa ha suonato nei posti più importanti del mondo ha diretto con diretto lapsus ha inciso con quella che per tanti anni oggi insomma magari parleremo un'altra volta non è più quello di una volta ma sono con la più importante del mondo ora perché vi parla sì certo ovviamente ve ne parlo per fare un omaggio perché è proprio il minimo 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 sindacale quello che mi ha fatto molto arrabbiare che la notizia è stata a malapena a malapena data dei tre giornali e ieri ieri infatti ieri pranzo ho detto uno guardami tutto il tg5 perché voglio vedere perché sono capaci capacissimi in genere guardo il g5 non non tg1 insomma come sapete non sono nello stesso orario questi sono capaci di non dire niente nei titoli non c'era niente c'era giustamente una c'era la guerra giustamente il g8 g7 g20 e 24 benissimo tutto giusto le elezioni politiche chi le tocca poi l'omicidio di qui avrà per amor di dio tutto tutto giustissimo nei titoli c'era poi un importantissima notizia riguardante amici di maria dei filippi insomma che che questo evento importante sono per la nostra vita per la nostra crescita insomma e quindi è giusto darlo non tanto e non solo nel telegiornale perché essendo sempre su mediaset ci sta ci sta ma nei titoli e va bene uno potrebbe dire la formula 1 e uno potrebbe direttamente i titoli c'è le notizie principali internazionali poi la cronaca poi il costume poi magari lo sport e poi quindi in questo senso amici di maria dei filippi ciao valentino da quanto tempo e quindi insomma potrebbe rientrare il costume benissimo insomma insomma mi sarebbe bene però ho detto a vedere che sti qua la fanno e ero già pronto a scrivere una mail di fuoco so io a chi della reazione nel di mediaset quando poi tra una notizia e l'altra verso l'ultima parte del dell'ultima parte del 25 netto ha scomparso ieri tardi 82 anni ma l'italiani la camera denti scala appunto totale credo 12 secondi vorrei andare lì a cronometrarli e qui torniamo e qui torniamo a un francesco trattata la vecchia location sì oggi mi hanno sfrattato da quella nuova perché c'è insomma c'è mio figlio con insomma con degli amici e quindi insomma star di là sarebbe stato veramente veramente impossibile vedi caro roberto e roberto ogni tanto ogni tanto siamo ancora lontani dalle domande quindi non se volete cominciate a scriverle ma roberto dice dando grazie lo spazio magari un rapper a due soldi non un messo artista come pollini io io vorrei che ci fosse spazio per tutti sia per il rapper da due soldi o non da due soldi poi poi voi sapete immagino che sappiate che la maggior parte dei servizi che vedete al telegiornale riguarda tutti guardati la musica o la cultura in generale o quel film che è uscito sono degli editoriali spesso a pagamento oppure non a pagamento ma è chiaro che non so tg5 e mediaset medusa e mediaset se c'è il nuovo figlio di medusa c5 parlerà ma questo ci sta non è una cosa c'è è giusto insomma ognuno a casa sua cerca di spingere i suoi niente di male e però poi ci sono delle situazioni come quelle di pollini come quella di altri di altri grandi artisti passate miglior vita che tanto hanno dato al lustro e alla cultura di questo paese che si passano in secondo piano e questa cosa buongiorno Antonella e questa cosa è veramente molto molto triste direi anche insomma che mi fa anche abbastanza incazzare perché perché ci sono dei paesi allora facciamo una promessa importante io sono di quelli che in italia non va bene niente in italia abbiamo delle cose strepitose che nel mondo neanche se le sognano su certe cose viviamo un po di rendita sicuramente però ripeto io credo che ci possa e ci potrebbe ci dovrebbe essere spazio spazio per tutti e se more un gran un grandissimo interprete internazionale ci ha conosciuto in tutto il mondo è probabile che in corea del sud abbiamo dato più più spazio questa questa notizia e porca la miseria la vogliamo dare questa notizia e non so chi scrive anche a christian buongiorno christian resta in zona perché perché devo proprio ti citerò ti citerò breve nell'argomento principale di oggi e buongiorno anche a meri per questa cosa qui boh non so vorrei vorrei pensare in realtà so che ci sono dei paesi dove c'è una cultura musicale ampia e ripeto non è che solo la classica sono classico solo opera cioè io sono musicalmente onnivoro mi ascolto veramente tranne il jazz che sapete non riscuota particolarmente il mio gusto mi ascolto veramente tutto ma quando dico tutto non come una volta diceva cosa ascolto ascolto tutto nel senso vuole a dire che uno che ascoltava la radio non che passava però gli facendo da bene io ascolto veramente andandomi a cercare di tutto i generi più disparati poi facendo colonna sonore sono anche obbligato per lavoro diciamo così a buongiorno giampiero andare magari ad approfondire i generi perché mi serve per mettermi una colonna sonora o così via quindi mi piace ascoltare tanto non tutto mi entusiasmo evidentemente ma cerco comunque di ascoltare tutte e questa cosa invece non è possibile vabbè per cui insomma direi che il minimo possiamo fare facciamo un ideale minuto di raccoglimento per il maestro pollini che 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 tanto e tanto ci ha dato secondo argomento ripeto mi spiace avrei voluto parlare un po più diffusamente di uno di questi tre argomenti però sono appunto tanti e non voglio poi sottrarre spazio alle domande qualora ve ne fossero secondo argomento è legato specificamente alla musica da film alle colonne sonore per cui se siete se non ve ne frega niente potete andare a fare un caffè e tornare tra cinque minuti se invece mi interessa argomento aguzzate d'orecchio perché con un collega e amico fabrizio campanelli stiamo aprendo un nuovo canale youtube quindi che non sarà vittorè dedicato esclusivamente alle colonne sonore fatte in maniera molto molto ciao davide buongiorno ben trovato fatte in maniera molto interessante credo perché praticamente tramite potenti mezzi tecnologici tutti di fabrizio non miei due brevissimi queste cose io decisamente molto meno praticamente analizzeremo delle scene di film ovviamente parliamo di film di di grandi di grande successo e di grande di grande notorietà fatteremo con un film importante musicato a john williams prenderemo la partitura in certi casi in molti casi la riduciamo per pieno forte e la facciamo scorrere sulla scena nel momento in sync per cui poi vedremo in questa scena perché è stata musicata così perché qui si bemolle perché qui c'è stato cambio di tempo perché qui ha fatto lo sforzato eccetera eccetera insomma e tutte le cose per cui insomma se siete interessati alle colonne sonore alla musica da film segnatevi questa cosa ve l'avevo già preannunciato al mese scorso adesso abbiamo già fatto registrato un po preparato un po di video potete fatti molto bene insomma anche da potete sapere strettamente tecnico tecnico qualitativo qualcosa di molto di molto alto di molto efficace per cui non abbiamo ancora nato il lancio ma quasi sicuramente sarà prima del 12 di aprile perché 12 aprile abbiamo un'altra roba per cui insomma direi che intorno all'8 10 aprile lancieremo il canale quindi subito dopo pasqua farò comunque un video apposta proprio per ricordare questa cosa per cui insomma se siete interessati alla musica da film con il sonore sarà il canale che vi manderà in brodo di giugiole specifico che è un canale con un taglio abbastanza professionale cioè non c'è a dire che i principali principali nostro target sono in particolare gli studenti di composizione in musica applicata di musica per immagini però è un è un canale e sono dei video che può seguire anche semplicemente un appassionato anche se non è musicista sì certo poi ci sarà qualche termine tecnico che magari il non musicista potrebbe non capire e vabbè insomma però schipperemo come dicono i giovani schipperemo francesco filardi ci dice lancio un'idea un video sul maestro pollini come fatto per abbado si sarebbe sarebbe da fare francesco e che c'è un milione e mezzo di video da realizzare perché voi nel frattempo nel frattempo mi fate un sacco di proposte un sacco di richieste un sacco di cose io come sapete al mio famoso file excel nel quale segno comunque tutte ma ho già adesso più di 50 più di 50 argomenti che cercherò di trattare e vi assicuro che fare due video la settimana è già un impegno un impegno notevole a meno che il canale passi da 5.400 iscritti a 500.000 in tal caso mi metterò a fare lo youtuber a tempo pieno e vabbè insomma comunque vedremo però insomma ecco questo per chiudere no non per chiudere l'idea lanciata da francesco è giusta insomma è giusta e farò farò il possibile non so se non so se riuscirò a farlo in questi giorni immediati perché domani ho già il martedì è la giornata che dedico a registrare a montare i video e ne faccio 2 barra 3 che vanno dal mattino fino alla sera naturalmente poi uno lo monto per poterlo mandare il martedì stesso e poi gli altri vanno il venerdì insomma facendo in questa maniera sto come dire accumulando fieno in cascina per quando e ci siamo quasi sono molto occupato col lavoro e quindi non potrò occuparmi di fare non potrei occuparmi di fare due video alla settimana come come era l'impegno preso con voi già da ottobre e quindi comunque però questi qua come dire già pronti in cantiere devo solo caricare su youtube quindi anche quando sarò impegnatissimo impegnatissimo col lavoro sono i video non mancheranno mai terzo argomento che poi l'argomento principale l'argomento principale diciamo così della la copertina live cioè se è legittimo buare a teatro prima avete visto un messaggio magari non vedo se riesco a recuperarlo c'è già una quantità di messaggi enormi per cui eccolo qua apra ovviamente nel hanno aperto questa notizia quando mostro è vedi è vedi no qui da noi non aprono caro christian allora perché prima ho nominato christian che è un direttore orchestra che che vive in russia da diversi anni che lavora in russia è legittimo buare a teatro io non ho mai fatto quasi no non ho mai fatto non ho mai fatto per due ragioni in primis perché la rigida buona educazione che mi è stata data mi impedisce di farlo e mi limitavo e già fatto che ne parli all'imperfetto potrebbe essere potrebbe essere sintomatico mi limitavo a alla teoria che al fine condivido ancora di dire o non non mi è piaciuto non applaudono perché come ha detto tante volte un applauso fiacco è terribile c'è un però questa mia teoria funzionava perfettamente finché a teatro la gente ci andava con spirito critico e quindi spirito che dico significa che se mi è piaciuto applaudo se non mi è piaciuto fischio adesso fischi quindi sono già una ventina d'anni per una moda arrivata da oltreoceano che in realtà sono considerati un gesto di apprezzamento diciamo non buo ecco questa cosa di buare a teatro che ha portato e vorrei fare anche un video sui logionisti in realtà che ha portato negli anni anche una serie di episodi decisamente sgradevoli in cui grandissimi artisti sono stati contestati in maniera anche abbastanza becera e molto maleducata da persone che probabilmente saranno stati anche degli appassionati ma insomma cioè io prima di andare dall'abbado dico abado proprio perché non c'è più così non facciamo non facciamo torto nessuno ma se abado fosse vivo prima di andare dall'idea però claudio è maledietta di schifo sta roba qui è non dovevi nel tempo ci penserei mille volte in primis per una questione di musicista immenso e io no e poi perché comunque resta una persona a cui si può solo solo imparare detto questo è giusto e sacrosanto il diritto di critica io vado a teatro pago un biglietto oltretutto e ho il diritto di applaudire possiamo applaudire e perfino entro certi limiti di fischiare il problema qual è che questa questa cosa è praticamente scomparsa c'è nei teatri e parlo in particolare dei teatri opere come sapete nella musica nella musica sinfonica io non ricordo episodi c'è o c'è un qualcosa di trovate politico legato a magari al direttore mi viene in mente so quando carlian aveva fatto la tournée la tournée con i berlin negli stati uniti qui è stato proprio boicottato perché ma sapete c'è stato qualche struscio diciamo così col partito nazista e quindi insomma era stato boicottato e quindi ai suoi concerti erano vuoti ci andavano quattro gatti però anche la cosa legittima e ci mancarebbe pure insomma quindi il punto ripeto che io ho sempre considerato sbagliato buare però questa cosa aveva un senso ripeto finché finché a teatro c'era uno spirito critico oggi spirito che dico ce n'è pochissimo forse è rimasto giusto ai loggionisti della scala forse forse perché in tanti altri teatri molte volte ho assistito della presentazione ma di più non ho assistito nel pubblico a volte ho fatto delle recite di opera dirette da me di cui io mi sono vergognato e dicevo che non usciamo vivi dal teatro che trovo che ci aspettano fuori e ci fanno una testa così poi applausissi tutto bene complimenti grandi complimenti forse ha avuto una cattiva percezione poi però magari la registrazione dello spettacolo di giro ma porca miseria perché non c'era era veramente terribile certe cose parlo di regia ma anche cose musicali e non perché sempre in questi giorni sono sembra che sia diventando di modo attaccare i registi e non è necessariamente quello che voglio fare anche se certo che c'è una questione da risolvere la crisi da risolvere e alte ai al pubblico di oggi va bene tutto e si fa andar bene tutto e applaude tutto spesso non capendo quello che viene fatto ma vabbè ma io sto zitto non ho capito niente di questo messo in scena però non voglio farlo tipo l'ignorante io come ho detto nel nel video dell'accensione della scala invece ho un ego abbastanza grande da poter mi permette di dire guardate io qui non ci ho capito niente non ho capito niente signor regista vorresti gentilmente spiegarmi cosa hai voluto intendere e perché parlavo di christian deliso perché lui in realtà ha scritto giorni fa sotto il mio post ha scritto una cosa del tipo non ricordo le parole precise ma il senso era sbagli a non buare se la gente riprendersi a farlo direttori artistici ci penserebbero due volte prima di chiamare certi certi figuri a fare le regie eccetera eccetera e che può sembrare poco ma in realtà è vero in realtà è vero c'è forse dovremmo riprendere a contestare posto che la cosa non ci piace però il problema qual è io non so o sul mio canale raccolgo esclusivamente contestatori che sono incavolati neri queste regie o se quelli che guardano il mio canale sono una cartina tornasole di quello che è il pubblico i conti non tornano perché ripeto o sono tutti sul mio canale quelli che protestano oppure in teatro c'erano stati nel sito nel video della scala si sono stati tanti buu tanti fischi negative ma sono stati anche tanti applausi e i conti non tornano perché la quantità di applausi che comunque erano credo di più dei buu credo anche se proprio oggi uno di voi perdonatemi non mi ricordo chi ma io leggo quasi 100 120 messaggi al giorno mi ha detto che è nato a vedere la ricetta proprio ieri proprio ieri sera e ha detto insomma che fondamentalmente si a parte si ritrovato con quello che ho detto mi fa piacere ma insomma non era obbligatorio poteva tranquillamente dire che che li sentiva ma anche come contestazione da regia c'è stata la stessa contestazione dal parte da parte dell'allogione ecco perché vi dico che i conti non tornano perché secondo me la gente che appla una parte una parte la gente che applaude lo fa per abitudine per consuetudine per ritualità teatrale per non far vedere perché non vuol farsi mettere quindi non vuol far vedere che prende una posizione o perché non vuol far vedere come detto prima che non vuol dire ma non ho capito niente invece non può dire non ho capito e poi c'è stato un un altro dei tanti messaggi che mi avete scritto in questi giorni sotto il video del della scala di una di voi che mi ha detto una cosa molto giusta e diceva bene ma scusate perché il regista e solo il regista ha il potere ha il potere di di stravolgere completamente la drammaturgia e quello che vediamo e lei dice che guardate che è tutt'altro che una sciocchezza allora bene allora stravolgiamo tutta l'opera ora traduciamo in altra lingua questo ancora sarebbe il meno invece che usare l'orchestra usiamo chitarra elettrica e batteria cantanti facciamo suonare cantare amplificati facciamo usare autotune c'è giusto è una è un concetto molto giusto cioè va bene c'è chi ha dato ai diritti e il diritto ai registi di prendersi la libertà di fare di stravolgere così tanto un'opera e lo ridico per la cento quattresima volta attenzione io non sono con leggete labiale non sono contrario a modernizzare e attualizzare le regie sono contrario questa cosa quando il gesto e la parola o il gesto più la parola e l'azione non vanno d'accordo quella cosa lì cioè io non posso fare in modo cioè i miei occhi sono abbiate pazienza sono un po limitato i miei occhi devono non far appugni con le mie orecchie e quindi come dicevo l'altra sera nella live con gli abbonati se io dovrei avere una spada in mano perché dico questa spada è in mano a un carciofo perché il carciofo con le spine simboleggia difficoltà del mondo è cosa non funziona non c'è niente da fare e ripeto vogliamo attualizzare vogliamo addirizzare mi sta benissimo benissimo che sia una cosa senso che è un costrutto perché altrimenti arriviamo a chi la spara più grossa è stato criticato anche per questa cosa qui no è stato dato detto che le mie che le mie che le mie annotazioni sull'ergia erano abbastanza banalotte e magari lo erano e ragazzi ci mancherebbe insomma mica c'è e sono una persona di una persona normale una persona normale come voi che che va a teatro chiama l'opera e che non nessun problema vedere un'opera cambiata modernizzata ma della cosa che vedo di avere un senso oppure oppure va bene allora rifondiamo completamente l'opera lo facciamo fare dai cantanti non dopo li amplifichiamo e facciamo tutti un eccetera 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 cioè il discorso che mi ha fatto mi fatto questa questa iscritta è assolutamente legittimo perché ci sconvolgiamo e siamo lì a rompere abbiate pazienza le palle ai cantanti e però era così era cosa un po più un po bene un po cliccante un po crescente non ho sbagliato niente però la voce non è quella giusta era fuori ruolo cioè sui cantanti poveri cristi vabbè questo non esageriamo voglio però insomma gli diciamo e ci diciamo anche tra di noi quando ci confrontiamo anche in maniera forte e poi un cantante non potrebbe dire ma sapete che c'è io la sento così secondo me la cantata in maniera completamente diversa tutto quello che voi avete ascoltato in ultimi 150 anni perché non ha diritto di farlo un cantante è un direttore cassa la diritto di dire ma ma questa cosa qui le trombe visto che un di voi leggeva nei commenti che criticava alcune trombe alcuni corni cioè va bene ok sapete che c'è trombe campionate con la tastiera perfette non sbaglieranno niente se lo facessero se lo facessero sarebbe cosa sarebbe non sarebbe più l'opera molto banalmente perché poi considerate una cosa che vorrei che vorrei che dico a voi che dico a voi e per trattato nel frattempo sto leggendo leggendo i tanti i tanti messaggi sì posso fare un esempio di regime modernizzato tra cui questo qua questo qua adesso però non voglio perdere perdere il punto c'è l'opera ha delle sue dinamiche interne ok lascio qui il messaggio perché risponderò tra tra qualche minuto e qui voglio chiudere questo discorso l'opera ha delle sue dinamiche interne per cui secondo me in un duetto d'amore non si può fare delle cose che siano contrarie il fatto che segua stanno facendo un duetto d'amore va bene quindi per esempio che l'amore ci mette una cosa concentra un tubo di niente e che mi distrae l'occhio e l'orecchio da quello che stanno cantando questi due uno all'altro una all'altra la cosa non mi sta bene perché immaginate immaginate un'altra cosa immaginate uno spettacolo di acrobati le sicuri solei va bene dove c'è questo qua che fare la tripla capriola carpiata io vado lì e gli dico non va bene la cosa qui non va bene dobbiamo rifarla completamente allora quindi tu devi fare questo movimento la capriola devi fare a rallentatore e lui mi dirà ma io non posso fare la capriola all'interno capriola è veloce va bene allora allora gli cambio un'altra cosa allora gli porto perché no perché dobbiamo percepire la lentezza il peso della gravità i problemi dell'umanità eccetera eccetera rappresentati dal da questa lentezza non è come dire non è conseguente non è non è giusta non è giusta non possiamo fare questa cosa qui cioè non possiamo andare a e infatti mi chiedo perché perché invece sull'opera si possano fare certi abomini e su altre cose no l'opera ha a un suo costrutto una sua drammaturgia cambiamola e adesso vado a argi modernizzate che davvero davvero valide e per cui non si può stravolgere il senso di quello che si vede perché è un'opera altrimenti trasformiamo in qualcosa di diverso ma non è più un'opera lirica allora legge modernizzate ritrova davvero valide due che mi vengono in mente due che mi vengono in mente il don giovanni che ho visto in scala due anni fa negativamente che era un allestimento decisamente moderno con costumi moderni degli enormi specchi in cui tante tante scene venivano completamente stravolte da da quello che potrebbe essere immaginarci la scena del settecento di don giovanni però a fronte di questa modernizzazione non c'era niente che contrastasse con quello che i cantanti cantavano e con quello che i cantanti facevano in scena era un'alimentazione diversa detto in altri termini se vogliamo pensare che la roba lì invece che il settecento fosse successo più avanti a parte il linguaggio che sempre però sul linguaggio non possiamo non possiamo più di tanto qualcuno dice ma come un linguaggio alico tipico dell'ottocento non si può portare nel 2000 si ma un linguaggio alico in cui però come dire contadini e nobili uomini parlano della stessa maniera insomma quindi non è una convenzione linguaggio dell'opera qui non è che si può dire ma che si parla in rima allora non si può fare comunque linguaggio dell'opera è una convenzione un'altra regia modernizzata visto molto belle è stato al teatro coccia di novara l'anno scorso il barbiero di siviglia il barbiero di siviglia io credo di aver diretto il barbiero di siviglia forse 40 50 voto è l'opera che ho diretto di più sicuramente insieme a tosca e l'ho vista da spettatore altrettante e questa questa regia era ambientati una specie di di casa di casetta di marzapane e poi però seconda con il con degli dei passaggi la scenografia rotante era bellissima era bellissima completamente diversa da qualunque altra regia libri di siviglia ma anche questa esattamente come per la regia di don giovanni non c'era niente su questa ambientazione perché adesso parliamo di ambientazione regia che non sono la stessa cosa non c'era niente in questa ambientazione che fosse contrario alla parola e al gesto dei cantanti semplicemente erano portati in un ambiente diverso ed era bellissima forse la più bella regia di barbiere che io abbia visto perché nel nei compiti del regista c'è sì quello di pensare se proprio ritiene che sia un ideona a un'ambientazione a un'ambientazione diversa raggiunge una meta storia aggiungere le famose micro storie così via però c'è anche altre cose ci sta deve anche valutare gli spostamenti delle masse anche quello fa parte l'ergia è un aspetto molto importante che io per esempio nel nel nella nella scala molto apprezzato le masse erano mosse molto bene anche le luci anche i costumi certo che c'è un tecnico luci o un light designer e certo che c'è una costumista o un costumista che realizzano i costumi ma li fanno su input del regista evidentemente non è che il regista fa una cosa il costumista ne fa una completamente diversa buongiorno ciopanni buongiorno per cui c'è questo poi sono le scene costumi le luci e poi c'è tutta serie anche di aspetti legati alla gestione del teatro la regia sono tante cose non sono solo i movimenti e non sono solo l'ambientazione ripeto può esserci una bella regia nel senso a livelli movimenti ma una pessima ambientazione poi ripeto che cos'è pessima o fabrizio buongiorno adesso arriva allora se volete cominciare a scrivere un po di domande scrivetene io credo un centinaio di messaggi quindi vado un po random allora caro andrea andrea scrive forse colpa anche direttore orchestra cantanti che non hanno il coraggio di incrociare le braccia verso certi registi registri ti è scappato un r non è questione di coraggio non è questione di coraggio è questione che non possono farlo non posso farlo gerarchicamente non posso farlo contratualmente non possono farlo poi forse sì forse si arriva veramente la super diva che dice ah io questa roba chi non la faccio probabilmente l'accontentano ma l'accontentano pur non essendo previsto nel contratto perché nella gerarchia il teatro abbiamo parlato anche in qualche video scorso c'è la sovrintendenza direzione artistica il dietro l'orchestra un poco più sotto regista e tutti gli altri perché non è che non hanno il coraggio e non lo possono fare unitamente a questo consideriamo anche un'altra cosa che io ho sentito e un po di anni fa un importante direttore l'orchestra andare in direzione artistica e dire guardate che questo cantante assolutamente non è in grado di cantare dobbiamo protestarlo mi spiace mi spiace ma dobbiamo protestare perché non è assolutamente adeguato stiamo parlando di un ente italiano non stiamo parlando di un festival di montecuccolo e il lettore artistico gli ha detto prendo nota della tua della tua la tua critica ma mi ci sciacquo le pudenda con la tua critica con la tua critica perché quella prescolo lì non si tocca ed era veramente imbarazzante come cantava questa persona imbarazzante per cui al di là del fatto che poi insomma un giorno magari potremmo entrare nell'argomento agenzie certi giochi di potere che ci sono eccetera eccetera però insomma era in un'altra cosa che in certi tempi altri tempi si poteva si poteva fare qui per esempio fabrizio ciao fabrizio negli anni 80 con il litigamento che piero cappuccili stava per mettere le mani addosso il regista in un rigoletto abbandonò per protesta il cast io non conosco questo episodio potrebbe benissimo potrebbe benissimo essere lo puoi fare se sei piero cappuccili o se sei comunque una grossa star il cantante normale grande professionista che fa una cosa del genere sapete cosa vuol dire in quel teatro non ci mette più piede ne abbiamo già parlato di cosa vuol dire criticare scelte del direttore artistico ne abbiamo già parlato in diversi video quindi magari date a ripassarli e quindi se sei veramente il grosso nome anche se il tuo contratto certe cose non sono previste puoi forse puoi forse puoi forse far valere le tue ragioni e se non lo sei ciap e porta cadi con a milano andiamo un po davanti allora roberto ci dice pur non essendo un talebano delle regie super classiche ritengo che una regia completamente astratta dal contesto in cui un'opera è stata scritta e sia comunque inaccettabile ecco io sono meno talebano ancora di roberto e come vi ho detto per me è accettabile se la parola il gesto e la scena e gli atti hanno una loro armonia interna l'opera fu fischiata reggita dovette essere accompagnata forza pubblica perché il pubblico lo voleva minare allora caro favorito a parte che poi su queste cose ci sono anche una sorta di di igiene metropolitane che poi di bocca in bocca diventano più grosse sì forse negli anni 80 forse oggi credo che nessun regista o cantante o editore orchestra rischi la propria incolumità andiamo avanti andiamo avanti allora quando un cantante viene protestato viene comunque pagato per lecce tra l'eseguito oppure equivale a un vero e proprio licenziamento e no si viene protestato viene protestato poi può essere allora il cantante viene protestato per una ragione molto precisa che una persona infatti spiace il direttore orchestra che è l'unico in effetti che possa fare questa cosa ritiene che quella persona che quel cantante non sia vocalmente adatto a quella parte per cui ne parla di lezione artistica e gli dice mi spiace che abbiate scelto tizio ma per me tizio non è assolutamente in grado di portare avanti quindi quest'opera non lo è tecnicamente o lo è ma non lo è nella maniera in cui lo voglio io per cui va eliminato e qui il direttore artistico vede quale peso più grosso perde il cantante o perde il direttore orchestra oggi come oggi è più facile che facciamo fuori il direttore orchestra comunque no non viene pagato per il recito e non eseguite gli viene dato il rimborso del tempo quindi vito, alloggio e le spese sostenute per i viaggi ma non viene pagato poi in certi casi però è una facoltà non è un obbligo del direttore artistico il direttore artistico magari dici guarda facciamo così dovevi fare 5 recite non hai fatto a zero te ne paghiamo comunque 2 così comunque non hai sprecato il tuo tempo e restiamo in buoni rapporti e poi ci vediamo l'anno prossimo per un'altra cosa quindi però è facoltà del direttore artistico sì Antonella Veronesi ha diretto un vendato ci ho fatto un video apposta che si chiamava Regie Orrorifiche e dove trovarle quindi lo trovate sicuramente parlavo e dove parlo specificamente di questo di questo episodio Bart Bachra che sulla produzione comprende tra l'altro numerosissime colonne sonore ho cercato a fare le puntate di colonne d'Erkheim non mi pare ci sia non c'è in effetti non c'è in effetti perché pur ritenendolo un grandissimo autore un grandissimo autore in particolare di canzoni più che di vere e proprie colonne sonore insomma ha scritto credo che almeno 10 canzoni sue siano conosciute a tutti noi anche se magari sappiamo che la scritta è lui attenzione io ho ascoltato diverse colonne sonore sue però è sicuramente un autore era insomma sicuramente un autore molto più interessante come autore di canzoni che non specificamente come compositore di colonne sonore insomma comunque sì insomma perché con la quantità esogesi che ha scritto piacerebbe averne una piccola parte dei suoi dei suoi introi tci insomma andiamo perché poi la buio sono un po' materiale la butto sempre sul venale insomma sì veronesi sì certo Antonella scrivendo e che altri insomma sono normali tranquilli errori vediamo un po' ecco e Sir John scrive ci riferisce probabilmente a Buare sarà anche legittimo ma secondo me è una manifestazione di inciviltà oltre che inciviltà povertà di argomenti ma il fatto è mai lo farò io sono molto d'accordo in questa posizione ripeto o ero molto d'accordo fino a qualche tempo fa però sta di fatto che se non si protesta in qualche maniera e se avete suggerimenti per proteste alternative scriveteli e attuiamoli andremo verso una deriva come quella tedesca noi ce la mettiamo la nostra regia ma voi non so quanti di voi hanno visto spettacoli in Germania spettacoli in Germania la regia modernizzata è la norma cioè non la norma di Bellini è la regola cioè non vedrete mai un Don Giovanni imitato nel Settecento e una Bohème nell'Ottocento proprio non esiste più per cui caro Sir John giusto io sono assolutamente d'accordo ripeto è proprio una cosa che c'è nel DNA non riesco a farlo però suggeritemi proteste alternative per far capire a chi di dovere che certe scelte non sono gradite allora il direttore orchestra anche se è stabile in alcun modo di influenzare la scelta del cast beh se è stabile sì la scelta del cast la fa la direzione artistica però è un dubbio che con un direttore stabile e quindi no con un direttore che viene chiamato singolo progetto sarebbe anche scortese non chiedere il suo parere poi come consiglio di stato è un parere non obbligatorio non vincolante ecco però insomma sì se è un indietro è stabile la voce il capitolo la mette quello che non capisco è perché se queste regie vengono sempre buate in maggioranza del pubblico si rifanno in primis non è vero che vengono buate in maggioranza dal pubblico anzi come detto prima è una decisa minoranza che le bua perché se fossero veramente buate da tutto il pubblico qualunque editor artistico due domande se le farebbe quindi già purtroppo la tua affermazione è basata sul presupposto inesatto se non ho sbagliato dopodiché vengono rifatte ne abbiamo parlato ne ho parlato andate a vedere sul secondo video delle gire orifiche quando vi ho detto che per questi registi vale la regola del parlatene male purché ne parliate e quindi a me regista mi viene più comodo che mi distruggano una cosa che ne dicano peste e corno piuttosto che io faccio un lavoro pulito di cui nessuno parlerà e guardate in questo momento noi stiamo facendo esattamente il gioco loro parlandone qualcuno mi ha rimproverato sul video della scala di aver dedicato fin troppo tempo alla regia ed è vero perché su 26 minuti di video tipo 11 o 12 sono dedicate a regia è vero è vero perché in questa maniera non si fa altro che fare il loro gioco forse come dire però d'altronde ignorandoli non succede niente buando non succede niente per cui ribellisco la mia richiesta di prima si accettano suggerimenti alternativi a questo punto il discorso è anche licito chiedersi come si possa fare un'energia più tradizionale senza risultare già visto o vecchio o scaduto addirittura domanda legittima ma di facile risposta io ho visto dal posto odio una quantità enorme di leggere cosiddette tradizionali che tutto erano fuorché essere vecchie o noiose o o perché se il regista sa far muovere i cantanti e non è vero sì cioè evidentemente si dice che i cantanti d'opera non si sanno muovere entrano lì cantano e vanno via ma c'erano anche quelli che sono capaci l'abbiamo visto proprio nella recensione per cui non è vero che risulta scaduto o già visto o noioso o vecchio ti assicuro che se il regista sa fare il suo cantante che se il regista sa fare il suo lavoro la regia anche se è pulita non non risulterà noiosa buonasera Francesco altro Francesco Francesco Persano Francesco Filardi chiedo scusa se per lo scrivo non c'entra niente ma volevo far notare ancora una volta che i video addirittura vanno a grandissima sì il video dell'attacco della quinta ha superato ieri di 100.000 visualizzazioni quindi vi siete iscritti al canale a proposito voi in questo momento siete tutti iscritti al canale 100.000 visualizzazioni cioè decisamente oltre le mie più grosse aspettative ne sto preparando un altro 500 video che sto preparando ma questo è già a buon punto praticamente la stessa cosa lo stesso format quindi il confronto ai vari dettori sulla 40 di Mozart così te la butto in anteprima Francesco spero che dovrà se riesco in settimana la prepari in settimana se non ricordo male alcuni teatri quando il pubblico non era d'accordo con la regia voltava le spalle al pacco scenico ascoltando solo la parte musicale dell'opera potrebbe magari essere un'idea non sono a conoscenza di questa cosa ma allora come protesta credo che incontrerebbe il mio gusto e anche quello di Sir John che ha scritto prima in realtà cioè come si attua questa cosa perché in platea non è attuabile perché o sta in ginocchio sulla sedia o non è fisicamente attuabile si potrebbe attuare nei palchi ma tanto voglio dire durante lo spettacolo i registi i cantanti pensano a fare il loro lavoro non è che stanno a guardare cosa fa il pubblico salvo casi di proteste clamorose insomma come quelli dell'altra sera che all'inizio del secondo atto ha gridato bravo il maestro ma facciamoli in forma di concerto e si è preso una compilation di insulti poi vabbè insomma anch'io ecco una cosa non la farei insomma ecco però 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 Fedora Romanov scrive inutile buare se poi i critici approvano allora vero in linea di massima in linea di massima è vero però tenete presente una cosa che noi stiamo andando non stiamo andando siamo già in un'epoca in cui i critici non contano più quello che contavano prima cioè oggi credetemi conta di più un canale del manga come il mio che è una critica sul giornale per ragione legata alla fruzione di contenuti non perché io sia più bravo di altri io o chi fa le recensioni su youtube non perché siano più bravi di altri ma per ragione proprio di mezzo di espressioni i giornali lo sapete non li compra più nessuno e anche se io critico faccio una recensione su un giornale che vende centomila copie al giorno e oggi è pura fantascienza in quanti leggeranno le mie recensione mille duemila perché non è che tutti che comprano il giornale per leggere le recensioni del teatro maggior parte non ne frega niente saranno quelli invece un video una video recensione su youtube che ha 20 30 40 50 mila visualizzazioni vi fa capire che si è spostato completamente l'equilibrio e vi fa capire perché certi teatri e ci sta non lo trovo non lo trovo convolgente chiedono a degli youtuber di venire vedere lo spettacolo e fare la recensione è stato chiesto anche a me in un paio di occasioni in cui però proprio non potevo farlo non avrei problemi a farla purché sia chiaro che devo essere libero devo essere libero di dire quello che penso cioè a dire non è che solo perché mi regali il biglietto in platea devo per forza leccare quello che hai fatto non funziona così anche perché sapete che c'è un detto che dice i giornalisti incorruttibili esistono ma costano di più ecco la mia situazione è esattamente la stessa io sono assolutamente corruttibile comprabile ma costo caro cioè se dovete corrompermi non ve la cavate con un posto in platea insomma ecco non svendo la mia credibilità la vendo se serve la vendo ma non a prezzo di moneta è un'altra citazione per cui però è importante che tutti voi sappiate che questa cosa che stiamo facendo è il modo in cui oggi si fa la critica perché una volta c'era sì il critico importante e ne abbiamo avuti anche di bravissimi preparatissimi tra l'altro ricordo quello che diceva il mio maestro Bettinelli e diceva lui che era stato il maestro di tutti i più grandi musicisti della seconda metà dell'ottocento tra cui Pollini tra cui Pollini di cui parlavamo all'inizio e poi Abado Muti sciaipo tutti va bene Ugi e ultimo ultimo molto molto in fondo anche il sottoscritto e lui mi diceva guarda io ho avuto la fortuna di avere comunque benetti Michelangeli insomma tantissimi altri ho avuto la fortuna di avere una serie di allievi che hanno fatto una carriera strepitosa perché erano musicisti strepitosi perché erano quasi tutti i miei allievi sono stati tutti degli ottimi musicisti pochissimi erano completamente negati per la musica e sono diventati tutti dei critici famosi quindi andiamo avanti lancio di fumogeni beh ma guardate è che oggi è che oggi la frutta costa cara e la verdura te lo raccomando ma se no una volta sai che gli lanciavano gli lanciavano di tutto sul palco e che oggi con quello che costa anche un cespo di insalata siamo freschi ovviamente si scherza non so cosa sempre Sir John prevedere un Don Giovanni ammettato del Settecento beh io credo che da qualche parte ci sia non so Fedora ci scrivi per me invece non funziona linguaggio ottecentesco con i costumi moderni ed è ed è giusto però attenzione ripeto a non a non cadere nell'equivoco di cui ho già parlato prima certo che è un linguaggio anche aulico oltre che in rima insomma in cui tutti parlano così bene potrebbe essere in contrasto con un'attualizzazione però ripeto il linguaggio dell'opera è una convenzione in cui tutti parlano così per cui a me non però rispetto naturalmente mi stuzzica ma mi sono perso forse il commento chiedo scusa ma sto andando veramente random ma sono i 70 forse ha scritto un commento in cui voleva stuzzicarmi ma non l'ho visto ecco chiedo chiedo scusa allora Andrea ci scrive forse un teatro i teatri dovevano fare cassetta immagino oggi sono mantenuti quindi il pubblico non ha più voce in capitolo e ne verona non è vero caro Andrea non è non è vero perché vero è che una volta i teatri erano fondamentalmente affidati agli impresari e gli impresari organizzavano rischiavano improprio e prendevano gli incassi oggi certo c'è il FUS ci sono i finanziamenti pubblici indubbiamente però guarda che i teatri prendono cifre molto più basse che quelle prendevano negli anni 70-80 ma di gran lunga più basse per cui vedere il teatro vuoto non fa piacere a nessuno questo te lo assicuro pomodoro come un tempo appunto ma con quello che costano direi che ok ci siamo siamo quasi alla fine per cui vi do ancora qualche minuto Giampiero scrive che un applauso scarno è una forma di senso sicuramente efficace sì assolutamente caro Giampiero a condizione però che ci sia quello spirito critico del pubblico che non dico di buare però non applaudi e se veramente metà della sala non applaude voi immaginate e chi è l'ultimo l'ultimo che entra il protagonista in scena il protagonista dell'opera mediamente ovazione tripudio perché mediamente uno o una bravo bravo ok ovazione dopodiché la prima donna va a prendere il direttore orchestra anche qui mediamente il direttore orchestra è una figura apprezzata perché non abbia fatto veramente dei disastri dei disastri epocali è una figura quindi applausone dopodiché o la seconda donna o il primo uomo se il regista o il protagonista se il regista è una donna vanno a prendere il o la regista e lasciamo stare i bu lasciamo stare spalle voltate lasciamo stare i pomodori con quello che costano oltretutto ma guardate che se veniamo da un bravo a protagonista un bravo dietro questa e poi esce il regista e improvvisamente non dico i pomodori ma mezza sala si zittisse sarebbe un crollo verticale queste cose quindi mi sta bene mi sta bene caro Giampiero a patto però prendiamo l'impegno soprattutto se abbiamo pagato un fiore di biglietto o anche se il biglietto è poco abbiamo pagato un biglietto abbiamo il diritto di risentire ok quindi a patto che tutti si dica ok ragazzi però se non ci piace non lo applaudiamo per convenzione per favore ecco perché torniamo al punto che l'applauso Mosho può fare molto male bene siamo arrivati alla fine di questa settima puntata allora un paio di brevi un paio di brevi indicazioni grazie grazie Andrea le leggo un commento di Andrea che mi ringrazia grazie mille grazie a te brevissimo un paio di se riesco a trovare eccolo qua un paio di indicazioni brevissime sui prossimi sui prossimi giorni allora martedì dovrebbe uscire il video su Hans Fimütter che mi è stato ecco Christian quando voi facciamo una live dal Marinski eh parliamone parliamone decisamente caro Christian diciamo martedì doveva uscire il video su Hans Fimütter che è stato come dire supportato da Davide Castoldi non so a questo punto se la faccio uscire martedì o se lo traslo ancora un po' però insomma entro entro marzo o martedì o martedì o martedì esce il video sulla Sommütter così come uscirà anche il video su diversi tipi di soprano che ci sono per spiegarvi spero una volta per tutte a chi ne avesse bisogno evidentemente tanti di voi non ne hanno alcun bisogno la differenza tra lirico leggero drammatico ricoloratura agilità eccetera eccetera dopo di che quello che sto preparando ve lo anticipo a parte la trama raccontata male di Pagliacci perché andrò a vedere Cavaliere e Pagliacci il mi sembra il 12 il 20 il 15 a metà aprile la prima ma comunque e quindi ho già preparato la trama raccontata male di Cavaliere sto preparando quella di Pagliacci dopodiché vorrei fare un video breve ma credo utile sulla differenza tra strumentazione orchestrazione e concertazione perché spesso vedo che soprattutto i non musicisti ma anche qualche musicista ogni tanto usano i termini un po' a sproposito o comunque confondendo l'una con l'altra con l'altra quindi decisamente da fare ultima domanda ascolto anche sinfonico predigo l'opera come ho detto all'inizio io sono univoro io ascolto heavy metal ascolto anche del rap perché no ascolto parecchie cose per cui prediligo l'opera nel senso che sono nato nell'opera la prima cosa che ho visto l'ho vista in teatro a tre anni ho visto un rigoletto in scala a tre anni e quindi poi insomma anche per formazione familiare insomma ecco però ci si ascolta sinfonico poi con una pistola puntata la tempia sceglierei probabilmente l'opera perché sono italiano spaghetti pizza mandorino baffinieri insomma però sinfonico porca miseria per cui siamo veramente in chiusura vi ringrazio io mi scuso di non essere riuscito ma in realtà ho risposto credo forse a un terzo di voi ma credo anche meno perché sto scorrendo adesso i messaggi sono decine e decine e decine eh allora ultimissima cosa di Francesco scusate perché adesso credo che possa essere interessante non vorrei essere preso per presuntuoso ma se il pubblico avesse un po' più di orecchio oggigiorno in Italia anche molti sarebbero direttori cantanti o orchestra boat o comunque contestati si hai ragione Francesco hai ragione questo è un discorso che afferisce proprio all'educazione musicale cioè uno non è che per forza avere il diploma di conservatorio assolutamente però quantomeno avere un infranitore musicale o se non hai infranitore musicale essere insomma esserti riempito le orecchie di roba buona poi la roba brutta la senti anche se ma quella non era mi bemol ma quella era un po' canata magari non te ne rendi conto va bene chi se ne frega però se hai le orecchie piene di roba buona quando ascolti la roba cattiva la riconosci la riconosci abbastanza subito attenzione solo però che questa cosa poi porta a quello di cui abbiamo parlato prima cioè del rischio che molte volte persone non particolarmente qualificate si arrogano il diritto di criticare musicisti a cui io non sarei degno di sciogliere i lacci dei sanderi diceva un importante e questa cosa non va bene secondo me come al solito è una questione di equilibrio non possiamo lasciare i pomodori e non possiamo applaudire tutte le porcate stavo dicendo non dirò le porcate tutte le cavolate che ci propinano e se non ci piacciono per favore non applaudiamo partiamo almeno da questo promettetemi promettetemi fate un giuramento giurino in giurata cross my heart hope to die che la prossima cosa che non vi piace almeno cioè che non applaudirete nella vostra vita mai più applaudirete per convenzione o perché magari sennò con la fianco penserà male di voi è stato un piacere ci vediamo il mese prossimo come al solito metterò sul community tab un sondaggio per quando fare la live partecipate sempre numerosei sondaggi e insomma arriveranno parecchie novità parecchie novità in settimana e la prossima annuncerò anche il lancio del secondo canale youtube grazie a tutti e alla prossima grazie a tutti